Viviamo ormai in un'epoca fantastica, contrassegnata da tecnologia all'avanguardia e intelligenza artificiale, dove sembra che qualsiasi cosa sia ormai possibile in ambito fotografia e video. Ma allora perché mi capita ancora così spesso di sentirmi dire da studenti, utenti, amici, colleghi, come mai non riesco a fare certe foto? Ebbene, esistono alcune cose dove la tecnica fotografica è ancora importante e oggi andrò a raccontarvi di un metodo semplicissimo per andare a migliorare le vostre fotografie in tantissimi ambiti diversi. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e ogni tanto anche un po' di video e mi piace tantissimo fare video su YouTube per condividere con voi la mia esperienza. Oggi vado a parlarvi di una cosa molto semplice che possiamo fare per migliorare le nostre fotografie in tantissimi ambiti diversi, con una spesa tutto sommato contenuta, con un ingombro minimo e, io mi auguro, senza nulla togliere al divertimento della nostra esperienza fotografica. Prima di cominciare ricordo a tutti che, se non siete iscritti, e io lo vedo dalle statistiche che molti guardano i miei video ma non sono iscritti, il bottone è qui sotto. Ricordatevi di cliccarlo perché date una mano al canale e date una mano anche a voi stessi, perché se siete dentro nel mondo di fotografia e video, ricevere periodici aggiornamenti su recensioni, diavolerie tecnologiche, tecniche fotografiche, male non può farvi. Bene, devo cominciare presentandovi lo sponsor del video di oggi. Qui abbiamo una bellissima scatola che mi è stata mandata direttamente da SmallRig. All'interno di questa scatola c'è la soluzione per moltissimi dei nostri problemi e dentro questa scatola c'è un'altra scatola, ma questa volta è più piccola e, come potete vedere, qui abbiamo di nuovo il logo di SmallRig con anche un piccolo claim e se io ve la tilto in questo modo probabilmente riuscite a intuire il suo contenuto. Qui abbiamo il Free Speed Travel Tripod, un treppiede fotografico che mi è stato mandato da SmallRig finché io potessi parlarvene nel contenuto di oggi. Un treppiede. Perché un treppiede? Signori, perché la fotografia si fa con i tre famosi parametri del triangolo dell'esposizione. Per chi non lo sapesse facciamo un rapidissimo ripasso. Noi abbiamo l'apertura, ovvero il diametro attraverso il quale noi lasciamo passare la nostra luce. Più allarghiamo il diaframma, quindi aumentiamo il diametro del foro e più luce entra a colpire il nostro sensore. Poi abbiamo la sensibilità ISO che deriva dalla sensibilità della vecchia pellicola. In realtà gli ISO lavorano un pochino più come un gain rispetto alla vecchia pellicola, quindi noi stiamo amplificando il segnale. Il segnale non cambia ma noi lo stiamo amplificando elettronicamente. Il che può introdurre del rumore può variare la gamma dinamica delle immagini che andiamo a tirare fuori. Il terzo parametro, parametro importante tanto quanto gli altri due, è il tempo. Ora, un treppiede ci rende padroni del tempo perché nel momento in cui noi scattiamo a mano libera non siamo veramente padroni del tempo. Per fare una fotografia a mano libera dobbiamo stare entro certi parametri, quindi possiamo fare la fotografia molto rapidamente, clic, fine della fotografia, ma non possiamo fare la fotografia molto lentamente invece. Quindi un'esposizione lunga, un cart rail, una via lattea, ma anche semplicemente una doppia esposizione e in certi casi anche semplicemente una foto a fuoco dipendono in gran parte dal tempo. Infatti se noi prolunghiamo troppo i nostri tempi di scatto la foto viene mossa perché noi siamo esseri umani e non siamo in grado di tenerla ferma a lungo. Anzi, vi voglio svelare un segreto. Non siamo in grado di tenerla ferma proprio per niente. I tempi di scatto rapidi ci permettono di cristallizzare quell'attimo, ma altrimenti noi normalmente ci muoveremmo. E vi faccio fare un test per verificarlo voi stessi. Adesso mettete il vostro dito teso davanti a voi in questa maniera e provate a coprire qualcosa. Io in questo caso sto coprendo il logo SmallRig sopra la cage che sto utilizzando sulla mia Canon EOS R7. Sì, perché ho una cage di SmallRig su quella camera. L'ho innestata tempo fa e non la tolgo più perché mi piace un sacco. Io in questo momento sto coprendo il logo. Provate a tenere il dito fermo. Vedete che non ci riuscite. Se ci riuscite fatemelo sapere in un commento perché siete dei dragoni a quel punto. Io non ci riesco. Non ci riesco perché sono un essere umano. Sono fatto, almeno l'ultima volta che ho controllato, ero fatto di carne e sangue. Ho un cuore che batte, ho delle vene che si dilatano e quindi il mio dito si muove. Ogni battito del mio cuore il mio dito si muove. Per questo motivo noi esseri umani non riusciamo a fare delle fotografie stando fermi molto a lungo. Ecco che un treppiede, al contrario, essendo inanimato, riesce a stare fermo tutto il tempo di cui abbiamo bisogno e quindi possiamo portarci a casa delle foto che a mano libera non riusciremmo mai a fare. Tra le tipologie di fotografie per cui è assolutamente indispensabile il treppiede vi cito prima di tutte la fotografia di interni, che è una di quelle di cui mi occupo prevalentemente io. Vi cito anche la fotografia di paesaggio perché spesso e volentieri quando facciamo paesaggio interni dobbiamo lavorare con il bracketing. Quindi dobbiamo fare tre, sette scatti, magari anche di più, per avere tutti gli elementi dove li vogliamo noi. Quindi questi scatti devono essere allineati. Ecco che lavorare su treppiede diventa un elemento assolutamente cruciale e quindi non possiamo fare a meno di questo strumento, altrimenti le nostre foto verrebbero disallineate e lavoreremmo peggio, oppure dovremo lavorare sul singolo scatto e quindi dovremo rinunciare ai parametri perfetti in virtù del fatto che dobbiamo scattare rapidamente perché se no la foto non viene come la vogliamo. Per cui il treppiede è uno strumento assolutamente essenziale in questi due generi fotografici. Vi cito anche lo still life. Ho diversi video a riguardo in cui vi faccio vedere come si fanno fotografie still life. È assolutamente indispensabile un buon treppiede stabile che non si muova perché noi dobbiamo posizionare la nostra fotocamera e poi magari spostare degli oggetti del nostro still life oppure fare più foto della stessa cosa per fare un focus bracketing e tutte queste cose sono assolutamente impossibili a mano libera. Per cui il treppiede è assolutamente essenziale. Ora andiamo a vedere che cosa c'è dentro questa scatola che come potete vedere non è grande perché 20 più 20 più non arriva a 60 centimetri. Adesso ci sono le misure specifiche che vi lascio in un link che potete andare a recuperare in descrizione quindi potete andare a vedere le specifiche vere del prodotto. Io misurandolo a span vi dico che la scatola sta sotto i 60 centimetri e dentro questa scatola noi abbiamo l'astuccio. Ora per chi mi conosce voi sapete benissimo che io mi emoziono quando vedo l'astuccio perché quando compri un treppiede tu dici vabbè ho comprato quell'arnese lì sono contento mi arriva a casa il mio treppiede ma non mi aspetto altro non mi aspetto accessori. In questo caso c'è un accessorio che è la prima cosa che vedo ed è un astuccio ragazzi è un astuccio che a me toccandolo sembra anche impermeabile. Come potete vedere qui abbiamo la doppia cinghia quindi è regolabile qui abbiamo il passante per regolare la lunghezza abbiamo un moschettone di plastica ma che è assolutamente sufficiente a reggere il peso di questo treppiede che peraltro non pesa niente è leggero. Qui abbiamo anche queste cinghie che non so se riuscite a vederle bene sono cucite e suppongo che servano per attaccarlo a un passante di uno zaino fotografico più grande si fanno passare i tre lacci qui e lo si lo si attacca sull'esterno di uno zaino. In questo senso io non credo che lo userò perché userò al 90 per cento delle volte userò la sua bella tracolla. Come vi dicevo a me sembra essere impermeabile perché è un tessuto che è un po' plastificatino sono assolutamente convinto che sia impermeabile quindi devo dire quando io vedo queste cose già sono contento perché mi hanno dato una cosa in più compresa nel prezzo che non avevo preventivato non ho certo comprato il treppiede perché c'era la custodia però vedere che mi arriva già sono contento. Andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro e abbiamo una cerniera. Ora le prime cose che mi vengono in mano sono l'innesto per smartphone voi direte che me ne frega a me e invece può servire perché magari io sono fuori a fare una foto ma magari voglio fare anche un contenuto social per promuovere la mia foto sui miei social oppure lavoro con l'iPhone 15 Pro e quindi mi serve proprio questo perché c'è anche quel caso e qui abbiamo la staffa con la vite per il verticale e la vite per l'orizzontale le abbiamo tutte e due. Da questo punto di vista di nuovo è un accessorio dichiarato sul sito ma non così importante dal punto di vista fotografico perché uno potrebbe anche dire faccio volentieri a meno però è una robina in più che ti hanno messo e quindi a questo punto uno magari dice va bene ho fatto la mia foto con la macchina fotografica e tutto adesso faccio anche la storia col telefono perché ho l'accessorio dietro e sta direttamente dentro e quindi è portatile te lo porti sempre dietro e se devi usarlo ce l'hai sempre lì. Io mi ricordo una volta che non ce l'avevo e mi è pesata perché un cliente a un certo punto mi ha detto adesso possiamo rifare il video soltanto con l'iPhone giusto per condividerlo subito? Vabbè non ce l'avevo è stato difficile farglielo se ce l'avessi avuto sarei stato più felice. La seconda cosa che mi viene in mano è un libretto di istruzioni con una brugola quindi andremo a vedere che ci sono delle parti che possono forse essere regolate un po' di fine tuning per andare a stabilire esattamente come vogliamo andare a utilizzare questo treppiede però ora le lasciamo qui e andiamo a vedere il pezzo forte. Allora custodia devo dire che si presenta molto bene perché è anche non è una custodia rigida però non è soffice ha un bel corpo quindi secondo me protegge anche abbastanza da urti graffi e quant'altro una bella custodia devo dire. Eccoci qui con il nostro treppiede allora adesso io devo fare una cosa ovvero vedete che è avvolto in una carta antiurto io adesso vado a liberarlo dalla carta antiurto che poi gli rimetterò perché quando lo trasporto gliela rimetto visto che c'era non si sa mai così lo tengo conservo bene visto che è proprio un bello oggettino. Allora ve lo faccio vedere come potete vedere qui abbiamo il logo di small rig sulla terza gamba che ha un grip di gomma che suppongo sia fatto per il trasporto in questo modo io vado qui con le dita è più gradevole da prendere perché c'è comunque un gommino che è più amichevole sulle nostre dita anche se devo dire che le finiture delle gambe sono molto belle sono assolutamente pregevoli sia al tatto che alla vista come potete vedere il treppiede si presenta in dimensioni assolutamente ridotte guardate praticamente è largo come le mie spalle io sono alto quasi un metro e ottanta quindi non sono esattamente un gigante e questo treppiede sta tranquillamente nelle mie spalle ok non sono neanche mingerlino però è un treppiede che sta compreso tra le mie spalle praticamente soprattutto se andiamo a tiltare la testa cosa che vi farò vedere dopo è un treppiede da viaggio è un treppiede piccolo che sta tranquillamente in uno zaino o alato di uno zaino infilato dentro in una tasca apposita adesso andiamo a vedere alcune delle feature di questo dispositivo innanzitutto vi faccio vedere il sistema di blocco e sblocco delle gambe perché è una cosa che qualcuno sicuramente conoscerà già io non ne ho nessuno di treppiede fatto in questo modo noi qui possiamo andare con un rapido movimento a aprire a questo punto possiamo estendere e poi di nuovo con un rapido movimento lo richiudiamo e lui non si muove più se io nuovamente vado ad aprirlo adesso posso richiuderlo e di nuovo lo chiudo e lui non si muove più rapido e facile e funziona ovviamente allo stesso modo per tutti quanti gli snodi quindi in maniera molto rapida io posso aprire tutti quanti gli snodi in maniera altrettanto rapida posso chiuderli una cosa che sto notando adesso è che qui alla base di ogni snodo c'è una guarnizione di gomma voi direte cosa me ne frega a me di una guarnizione di gomma e beh ragazzi questo però significa che nel momento in cui lo andiamo a chiudere lui probabilmente sarà a prova d'acqua quindi nel momento in cui noi lo chiudiamo non entrerà acqua all'interno delle gambe questa è una cosa a cui io non avevo pensato fino adesso che l'ho vista però è una cosa che può assolutamente avere senso perché se io sto lavorando sotto la pioggia sotto le intemperie avere un sistema che previene l'ingresso di acqua all'interno delle guarnizioni è assolutamente una cosa pregevole adesso sapete cosa facciamo io vado ad aprire la gamba e la richiudo apro e richiudo apro e richiudo a questo punto posso andare ad aprirlo e posizionarlo qui così che vediate la capocchia ora per quanto riguarda la testa vi presento questo bellissimo sistema di sgancio rapido secondo me hanno fatto un ottimo lavoro in questo caso perché la vedete questa simpatica linguetta in questo caso è aperta e quindi io posso andare a variare l'altezza del mio perno centrale e adesso lui è libero vedete quindi si muove ma se io tiro giù questa linguetta ecco che lui si blocca quindi il meccanismo di sgancio è semplicemente questo così è libero così è chiuso e quindi io posso in maniera molto facile andare a variare l'altezza con un semplice tocco è molto rapido e molto pratico ovviamente bisogna stare attenti a una cosa nel momento in cui io ho esteso il mio braccio e gli ho messo su una fotocamera magari anche di un certo peso vado a fermarlo prima di sbloccarlo perché altrimenti potrebbe andare giù a piombo e questo ovviamente non fa bene né al treppiede né alla fotocamera quindi quando l'abbiamo chiuso possiamo lasciare andare e siamo in sicurezza quando lo andiamo a smollare mano qui smolliamo e portiamo giù piano questo va così per ogni treppiede bisogna sempre avere un minimo di accortezza perché altrimenti rischiamo di fare un danno altra cosa che vi faccio vedere qui abbiamo il meccanismo di sgancio rapido della testa sfera quindi con un semplice gesto lo andiamo a sbloccare e lui adesso gira qui abbiamo un foro centrale che serve per portare la nostra testa in posizione verticale quindi ce l'abbiamo dritta per fare le nostre foto orizzontali ce l'abbiamo verticale per fare i nostri scatti verticali vedete è abbastanza fluida si muove molto bene risponde a tutti i movimenti l'unica cosa a cui fare attenzione è che per andare in verticale abbiamo questa fessura e dobbiamo usare per forza questa quindi non può andare in verticale in tutte le direzioni ma solamente in questa direzione per cui dovremmo posizionare la nostra fotocamera con coniezione di causa se sappiamo che la vogliamo tiltare in un certo modo una volta che l'abbiamo messa nella posizione desiderata tutto quello che dobbiamo fare è solamente richiudere il suo fermo ed ecco che la testa è di nuovo immobilizzata per quanto riguarda lo sgancio della piastra nuovamente abbiamo un bel meccanismo che è a vite quindi io semplicemente girando questa vite due giri e libero la mia piastra quindi questa qui sarà attaccata sotto alla mia fotocamera e videocamera e io potrò posizionarla e nuovamente uno e due con due gesti sarà nuovamente posizionata una cosa ulteriore che vi segnalo è che qui sul fondo dell'avvitamento della piastra c'è anche la bolla quindi se vogliamo essere in bolla io per esempio adesso metto la mia fotocamera in bolla quindi metto la bolla perfettamente al centro e poi vado a richiudere così sono sicuro che la mia ripresa sarà in bolla dopodiché posso andare a rimettere la mia piastra una cosa ulteriore che vi segnalo questo attacco dovrebbe a occhio essere compatibile anche con le cage di small rig io per esempio ho la black mamba per r7 adesso non posso garantire per tutte le cage che ci sono in circolazione però questa piastra dovrebbe essere compatibile con una buona parte delle cage in circolazione soprattutto se sono anch'esse di small rig prossima cosa che vi faccio vedere sono questi pulsanti che stanno sul lato di tutte e tre le gambe del nostro treppiede nel momento in cui noi andiamo ad aprire il nostro treppiede vedete che arriva fino a questa inclinazione qui c'è un blocco io però posso sfilare questo bottone e bypassare il blocco e posso andare sulla seconda posizione che è questa quindi vedete che abbiamo una pendenza ben diversa e possiamo anche bypassarlo nuovamente e andare in ultima posizione in questo modo vedete che aprendo tutte quante le gambe noi potremo andare a mettere il nostro treppiede completamente a terra in maniera tale da avere una ripresa molto molto bassa una cosa che è sicuramente bella da avere e avere la possibilità di stendersi così in basso ci dà un grosso vantaggio rispetto ad altri treppiedi anche più performanti anche più blasonati che magari stanno solamente in posizione eretta se vogliamo tornare in posizione a questo punto è sufficiente tornarci perché il nostro pulsante segue i blocchi e quindi torna in posizione automaticamente ora l'ultima cosa che vi mostro che però non è di poco conto è il gancio centrale ora come molti di voi sapranno questo simpatico gancetto serve per appendere uno zaino un contrappeso nel mezzo del nostro treppiede in questo modo se stiamo scattando nella natura nelle intemperie mettiamo un peso qui che rende più stabile il tutto nel momento in cui però noi vogliamo disfarci di questa gamba centrale possiamo farlo qui abbiamo un bottone di sgancio rapido quindi io premo e sfilo e qui c'è una ulteriore brugola che quindi viene sempre con noi è una brugola che è sempre inserita quindi possiamo tirarla fuori alla bisogna questa brugola può essere utilizzata per sganciare la nostra testa in maniera tale da rimuovere la sbarra centrale che deve essere rimossa se vogliamo andare pancia a terra come vi facevo vedere prima se vogliamo utilizzare il nostro treppiede in questo modo quindi vedete con le gambe pienamente stese pancia a terra quindi il suolo è qui e quindi questo perno centrale a questo punto ci dà fastidio per cui noi lo rimuoviamo e lasciamo innestata solamente la testa che sarà quindi a livello dell'innesto delle gambe e potremo quindi andare a fare le nostre foto dal livello del terreno una volta che abbiamo finito come dimostrato prima le gambe tornano in posizione da sole e noi possiamo andare a reinserire la brugola che si incastra automaticamente in mezzo al perno possiamo andare a riavvitare il perno sì forse è meglio se riavvitiamo il perno prima e rimettiamo la brugola dopo però insomma avete capito e come ultimo step possiamo tornare ad aprire la leva per regolare l'altezza andare a rimettere l'altezza a zero e a questo punto possiamo richiudere la nostra leva e riporre il nostro treppiede vi do qualche dato sul prodotto abbiamo a che fare con un treppiede che può essere innalzato fino all'altezza di un metro e cinquanta le misure intermedie sono allora abbiamo un top di 1,50 dopodiché abbiamo un intermedia di un metro e venticinque dopodiché abbiamo 72 centimetri e 48 centimetri per cui misure abbastanza standard non è altissimo però un metro e cinquanta è più che sufficiente per la maggior parte degli usi possiamo fare paesaggio possiamo fare foto di interni possiamo fare foto industriale possiamo fare lunghe esposizioni ci lascia fare la maggior parte delle cose vi dirò che personalmente lo utilizzo spesso anche come treppiede da tavolo quindi non ho neanche bisogno di estenderlo perché se ho un appoggio come un tavolo o un'automobile o qualunque altra cosa posso metterlo lì sopra semplicemente aprendolo ed è già in posizione come vi dicevo dalla scatola la lunghezza dichiarata del prodotto è di 49 centimetri quindi non arriva nemmeno a 50 per cui è chiaramente da viaggio è chiaramente portatile ma le performance non sono completamente da viaggio sono lievemente superiori come andremo a vedere i materiali dichiarati sono fibra di carbonio alluminio acciaio inossidabile e abs come mai fra tanti vi parlo proprio di questo beh innanzitutto perché è un prodotto nuovo che è appena uscito e quindi si distingue per tutti questi brevetti tutte queste feature molto interessanti come questi sganci rapidi che personalmente ho trovato rapidi davvero nel senso che ne ho altri di tre piedi che sono un po più gnocchi bisogna perderci un po di tempo per stare lì ad aprirli e chiuderli e sono meno affidabili nelle finiture qui devo dire che i materiali sono buoni io qui tocco e sento freddo quindi queste parti non sono di plastica dove ci deve essere della plastica magari c'è per esempio questi snodi sono di plastica però il resto è freddo e questo mi dà una sensazione di costruzione superiore rispetto ad altre cose anche che ho in mio possesso gli sganci sono tutti robusti e assolutamente di qualità e quindi mi danno una sensazione di affidabilità per quanto riguarda la mia strumentazione mettiamoci pure dentro che si tratta di un bell'oggetto è un bell'oggetto con un bel design e si presta molto bene è stato pensato per il viaggio e secondo me si presta molto bene perché questo sta tranquillamente in uno zaino anche da bagaglio a mano quindi se noi mettiamo questo dentro in uno zaino secondo me non ci sono problemi perché ci sta come potete vedere non è grande uno zaino è più grande di così ovviamente occupa un po di spazio però questo ci sta tranquillamente in uno zaino e lo possiamo portare con noi per le possibilità creative che offre uno strumento del genere in tutti i generi fotografici sopra citati secondo me vale assolutamente la pena farci una pensata tenendo conto ovviamente che uno strumento di questo tipo è pensato per il viaggio ma va bene anche per una molteplicità di altri contesti e io vi poterò questo quando faccio fotografia di interni perché lo reputo migliore del treppiede che utilizzavo prima migliore magari non tanto per quanto riguarda la resa finale quella era uguale ma questo è più piccolo è più leggero e ci metto di meno ad aprire di chiudere tutti i vari snodi quindi mi farà risparmiare tempo e mi farà fare meno fatica oltre poi a essere un bel prodotto con un bel design perché a vederlo è veramente caruccio ed è griffato small rig in ogni dove che è un brand comunque che a me piace ho già recensito alcuni suoi prodotti io sto usando per chi se lo stesse domandando sto usando la batteria di small rig la batteria che mi hanno mandato e che ho recensito qualche mese fa sto usando quella per registrare tutti i miei video con canone osr 7 sto usando quasi sempre quella batteria quindi la batteria di cui sono contento performante funziona non mi ha mai abbandonato io sto utilizzando la cage di small rig sulla macchina che sto usando per riprendere quindi è un brand che uso è un brand che usavo già anche prima che mi proponessero questa collaborazione quindi è un brand che mi piace di cui riconosco il valore lo riconoscevo anche prima e quindi sono contento di proporvi un prodotto come questo perché lo reputo assolutamente adeguato per le esigenze di molti fotografi che potrebbero stare seguendo il mio canale per cui che dire a questo punto amici vi lascio come sempre spazio nei commenti fatemi sapere se avete domande su questo particolare prodotto o su altre cose di quelle che abbiamo parlato nel corso di questo video io vi lascio ovviamente il link di small rig se volete vedere tutte le specifiche su questo prodotto lo trovate prima cosa giù in infobox vi lascio come sempre spazio nei commenti e ricordatevi anche di iscrivervi al canale così non vi perdete le risposte magari che io posso pubblicare in contenuto di video breve ai commenti che mi lasciate è stato un piacere passare un po del nostro tempo con voi e io e small rig vi diamo appuntamento al prossimo video